Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni, oggi incontriamo Enrico Bacchetti, il direttore dell'Isbrec, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Iniziamo con una nota un po' dolente, la questione riguardante la vostra sede, ci contestualizza questa situazione e quale sarà il futuro vostro e del vostro immenso patrimonio? L'istituto ha davvero un immenso patrimonio tra documenti e volumi di biblioteca, parliamo solo per la biblioteca di probabilmente oltre 30 mila volumi e decine e decine di migliaia di documenti, quindi un patrimonio ingente che supporta e sostiene la cultura del nostro territorio. La nostra sede si trova nell'ex Monte di Pietà, in Piazza Mercato, a Belluno, che è un palazzo tra l'altro che ospita anche altre realtà culturali, dalla Fondazione Angelini all'archivio storico di Belluno-Feltrecadore, al Circolo Culturale Bellunese. Purtroppo questa sede non è idonea, soprattutto ad ospitare utenti delle biblioteche e degli archivi e quindi c'è bisogno di provvedere a trovare una qualche soluzione, provvedere a sistemare la sede oppure trovare una collocazione differente per noi come per gli altri soggetti. È una questione che ci tormenta da alcuni mesi ormai, alla quale è difficile che noi come associazioni possiamo trovare una risposta perché richiede un impegno, uno sforzo economico ingente che non siamo in grado ovviamente di sostenere. Tenete conto che l'ISBREC è un'associazione che si basa unicamente sul volontariato, per cui si sostiene con le proprie risorse, le risorse messe a disposizione dei soci, con i magri ricavi della produzione editoriale e grazie a dei contributi pubblici. Ora noi contiamo molto sull'appoggio del pubblico e da questo punto di vista devo dire l'amministrazione comunale di Belluno si è attivata e da alcuni mesi sta lavorando attorno a questo problema e ci auguriamo, siamo fiduciosi e ci auguriamo sicuramente che una soluzione si possa trovare perché noi come gli altri soggetti rappresentiamo una pagina importante ritengo della cultura bellunese e disperdere questo patrimonio sarebbe delittuoso e non solo per la cultura bellunese perché parlando proprio del nostro istituto noi ospitiamo ricercatori che arrivano dalle università di tutta Italia, qualche mese fa una ricercatrice che arrivava da un'università degli Stati Uniti, prestiamo libri a tutta Italia e non solo, qualche giorno fa c'è appena stato restituito un volume che avevamo prestato all'Università di Madrid, per cui il patrimonio che conserviamo è un patrimonio importante sia sul piano dei documenti che su quello della raccolta bibliografica, dei libri. Il patrimonio che peraltro puntate sempre a integrare con delle collaborazioni magari delle persone, dei cittadini, su questo vuole fare un appello. Ma certo, certo, come no? In ogni casa, in ogni soffitta ci sono delle scatole che conservano delle casse che conservano magari vecchi documenti personali o magari di associazioni, di persone che hanno partecipato alla vita di alcune associazioni e poi i documenti gli sono rimasti in mano. Ecco, questi documenti non devono andare dispersi, perduti, distrutti, perché aiutano per pochi che siano e marginali che siano, aiutano a ricostruire meglio determinati aspetti e momenti della nostra vita, della vita delle nostre comunità. Per cui sì, è un appello che mi sento di fare, chiunque trovi dei documenti non li butti via, ma cerchi un ente, un'istituzione che abbia piacere e modo di accogliere. L'istituto, per esempio, ha anche questo scopo. Noi conserviamo documenti che appartengono ad associazioni importanti, come alcuni partiti politici, della cosiddetta prima repubblica, dell'arco costituzionale, dalla democrazia cristiana al partito repubblicano, al partito comunista o di altre associazioni come l'Ampi, l'associazione Ex Internati, la CGL, ma conserviamo anche documenti appartenuti a singole persone, fondi personali e sono utili, sono utili sempre per ricostruire la storia, la nostra storia. Vediamo una vostra attività interna, la riorganizzazione delle cariche. Sì, quest'estate si è svolta l'assemblea, era il 28 maggio se non ricordo male, che aveva tra i suoi obiettivi quella di rinnovare i vertici dell'istituto, in modo particolare eleggere il consiglio direttivo, che è costituito di 15 membri, ci sono all'interno persone che appartengono, diciamo così genericamente, alla società civile e anche ricercatori, e anche ricercatori molto importanti, figure molto importanti della ricerca storica nel nostro territorio. A sua volta il direttivo ha provveduto a eleggere i propri vertici, e quindi attualmente il presidente è il sociologo Diego Cason, il vicepresidente è la dottoressa Franca Cosmai, che è una ricercatrice e un archivista, originaria di Belluno ma che viveva a Padova, in realtà la tesoriera è un'altra storica di vaglia come Adriana Lotto, io continuo a essere indegnamente il direttore dell'istituto, ma poi dopo abbiamo chi è responsabile della biblioteca, chi è responsabile degli aspetti amministrativi, il segretario dell'istituto, insomma tante figure che aiutano questo istituto che ormai ha parecchi anni sulle spalle, quasi 60, essendo nato nel 1965, aiutano appunto l'istituto ad andare avanti. Ne ha 60 tondi invece la tragedia del Vajonte, su questo voi avete fatto delle attività, pubblicato un libro che avrà poi anche un secondo tempo nel prossimo anno. Sì, il Vajonte è da molti anni un tema al centro delle ricerche dell'istituto, il nostro istituto storico della resistenza, ma da metà degli anni 90 anche dell'età contemporanea, perché il suo raggio di interesse si è molto ampliato nel tempo. E in effetti il Vajonte è una delle questioni che è sempre stata considerata e affrontata nel nostro istituto. Recentemente abbiamo portato avanti un progetto e concluso la prima parte di un progetto molto importante legato alla riscoperta della figura del giudice istruttore Mario Fabri e rivisitare il tema del Vajonte. Per cui è uscito qualche mese fa, grazie all'impegno dell'editore CR, un volume, la prima sentenza, Vajonte la prima sentenza, appunto la trascrizione della sentenza istruttore del giudice Fabri, che è un momento decisivo, perché è il passaggio fondamentale per arrivare poi a una definizione delle responsabilità processuali e giudiziari. Naturalmente l'impegno non è solamente questo, facciamo un'infinità di attività, per esempio le scuole legate al Vajonte, per cui siamo contenti che questo tema tanto importante per la nostra terra non venga trascurato e noi facciamo di tutto perché questo avvenga, insieme ad altre associazioni e altri enti ovviamente che se ne sono occupati molto in questi anni. Però è importante perché il Vajonte è davvero un punto di svolta per la storia del nostro territorio. Se c'è una ragione per cui una provincia montana come Belluno riesce a sopravvivere meglio di altre province totalmente montane, sta proprio nel fatto che ha avuto una certa industrializzazione che è stata garantita, ahimè, con i contributi che sono arrivati anche dopo la tragedia del Vajonte. Purtroppo sono serviti 1910 morti e questo è un prezzo che non potrà mai essere ripagato in sostanza, però è vero che la tragedia del Vajonte ha cambiato la storia della nostra provincia. Ha cambiato secondo lei anche la testa dei nostri cittadini, dei nostri industriali? È una domanda che non dovreste fare a me perché non ho le sufficienti competenze per dirlo. Certo, credo che abbia in molti cittadini abbia destato l'interesse per le questioni legate agli aspetti ambientali che sono essenziali, sono centrali. Noi non possiamo disgiungerci dall'ambiente in cui viviamo. Lo condizioniamo, lo modifichiamo, però dobbiamo essere inconsapevoli di quello che facciamo perché altrimenti le conseguenze possono essere tragiche. Il Vajonte ne è un esempio evidente e terribile, ma sono tanti gli aspetti, tante le situazioni analoghe che si potrebbero verificare. Io spero che sia il mondo della società civile, sia il mondo anche dell'impresa rifletta sempre attentamente su questi aspetti perché sono veramente importanti. Continuiamo dunque sul filone delle vostre pubblicazioni, parliamo del libro su Don Carlo De Luca. Sì, questo è un progetto che stiamo portando a termine, siamo in fase di correzione delle bozze, un lavoro lungo e interessante, molto interessante. In realtà il progetto è partito da una sollecitazione della magnifica comunità di Cadore che ha coinvolto l'istituto nella costruzione di un convegno che si è svolto lo scorso anno, nell'ottobre dello scorso anno, volto a riscoprire la figura di questo prete Cadorino, una figura estremamente complessa e interessante che racconta e reinterpreta la storia del Cadore. Lui è stato parroco, è stato insegnante, è stato consigliere di molte persone, è stato perfino un patriota perché partecipò nel 1848 ai moti risorgimentali in Cadore assieme a Pier Fortunato Calvi, una figura dunque estremamente sfaccettata e complessa. Abbiamo cercato di ricostruirla attraverso le carte che in buona parte sono conservate proprio presso l'istituto storico della Resistenza e adesso stiamo per pubblicare questo volume che di fatto contiene gli atti di quel convegno. Tra gli altri libri poi, restando un po' in tema bellico, c'è una pubblicazione su un deportato bellunese? Sì, il titolo è Le guerre di Umberto e Maria, in realtà raccoglie un carteggio estremamente articolato, una nuantina di lettere che ruotano attorno alla figura di Umberto Speranza, un soldato bellunese che combatte nella zona balcanica e in Grecia in modo particolare e dopo l'8 settembre del 1943 viene arrestato dai tedeschi e deportato in Germania. Questo carteggio racconta sia il prima rispetto alla deportazione, sia le fasi successive, ma non sono solo le lettere che lui invia a casa, ma anche quelle che riceve perché lui avrà la fortuna di ritornare a casa e quindi portare con sé anche le lettere che aveva ricevuto e questo ricco carteggio insomma è un bello squarcio su questa terribile vicenda che riguarda 650 mila circa soldati italiani, ma probabilmente 4-5 mila soldati bellunesi. Questo progetto che poi è stato curato dal figlio di Umberto Speranza, Vittoriano Speranza e da Adriana Lotto, mi piace ricordarlo anche perché ha visto il coinvolgimento di alcuni studenti che hanno fatto uno stage, il PCTO presso il nostro istituto l'estate dell'anno scorso e a cui avevo affidato l'incarico di trascrivere queste lettere, quindi queste lettere in qualche modo diventano un trade union tra il passato e la storia dei nostri nonni e le nuove generazioni in qualche modo e di questo sono particolarmente contento. Questo mi porta a parlare del vostro ruolo educativo, ci sarà un convegno il prossimo anno sul ruolo fondamentale dello studio della storia, ci dà qualche anticipazione? È difficile ancora dare anticipazioni perché è un progetto che abbiamo messo in cantiere ma che non abbiamo ancora strutturato in modo preciso. Certo è importante secondo noi riflettere sul ruolo e il significato della storia oggi. Vediamo che, forse è sempre successo per carità, ma nelle giovani generazioni un certo disinteresse nei confronti della storia, purtroppo lo vediamo spesso anche negli adulti e questo è tragico, è un problema perché si traduce nell'incapacità di dare profondità alle nostre visioni. Se non conosciamo il nostro passato non siamo in grado di comprendere il nostro presente, non dico progettare il nostro futuro, ma comprendere chi siamo ora qui. Magari facendo esperienza di avvenimenti che sono già successi nella storia, dei quali possiamo dare una spiegazione basata proprio su quello che è successo. Sì, purtroppo, ed è una questione legata ai tempi, non certo alle incapacità degli insegnanti, ma purtroppo nella scuola la storia è spesso il semplice, mero racconto dei fatti e la successione dei fatti. Lo storico deve andare in ricerca di altre cose, dei perché soprattutto. E i perché permettono di spiegare non solo cosa è accaduto in maniera molto più completa, ma anche aiutare a comprendere la ragione per cui siamo arrivati a questo punto, siamo così come siamo, nel bene e nel male, e può darci anche delle risposte nell'affrontare il nostro futuro. Qualcuno diceva che chi non conosce il proprio passato è condannato a riviverlo, nel bene e nel male, molto spesso nel male. Su questo siamo in chiusura. Io ringrazio ancora il direttore dell'ISBREC Enrico Bacchetti per questa chiacchierata. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.